15 piante di marijuana, ognuna in vaso, ben nascoste tra il rigoglioso mais di un terreno, sono state scoperte a Santa Giustina in Colle dagli agenti della Polizia Locale della Federazione Comuni del Campo San Pierese, terza unità operativa. Tra i filari alti due metri invisibile dalla strada qualcuno aveva ricavato una piccola area di circa 30 metri quadrati dove aveva posizionato i vasi con le piante alte tra i 30 e i 90 centimetri e tutto il necessario per abbeverarle. L'azienda agricola proprietaria del terreno è estranea alla coltivazione fuori legge. Il narcotest effettuato su una delle piante presa come campione ha dato esito positivo. Una volta maturate dalle 15 piante di cannabis si sarebbe potuto ricavare marijuana per un valore sul mercato di oltre 10.000 euro. Le pene per i responsabili sono molto severe. Chiunque coltivi per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope viene punito con la reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da 26.000 a 260.000 euro.